Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e tu sei Ludovica Oggi ragazzi siamo qui su Roblox per un altro escape E oggi lo scapperemo dagli... Alieni! Esatto ragazzi Che felicità! Come potete vedere davanti a noi c'è un alieno enorme Che ha spaccato il muro Esatto, ma adesso schiacciamo play, vero Lulu? Let's go! Scegli la modalità di gioco che vuoi giocare Facile! Normal! Eh, non Natale perché non è Natale Quindi normal Oddio Bene Ehi Ciao Dove sei? Eccoti Ok, fermati Lulu Allora Lulu Intanto sporiamo un po' questo posticci Salve signore Oh Ludovica, vediamo cosa ci dice Ci siamo persi nel deserto Dobbiamo trovare la nostra strada Ecco E ha tolto subito Vabbè, comunque ho detto che dobbiamo trovare la nostra strada Ok Vediamo Ludovica, attende che qua ci spassano le macchine Infatti dobbiamo Vai, 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 vai Perfetto, aspetta Ecco Complimenti Brava Ma io pensavo che era bello Hai schiacciato Oh Ma Non è che sei risuscitato Ok Passiamo di qui? Passiamo di qui? No Passiamo di qui? Io non voglio morire E passiamo di qui Checkpoint Aspetta Lulu Vediamo cosa dice il signore Sali sul palo dell'illuminazione Per arrivare dall'altra parte O compro il tappeto E si toglie Vabbè, dai Ok Comunque dobbiamo salire dall'altra parte Sono morta Comprimente Ludovica Comprimente No, Ludovica mi sa che dobbiamo Salire qui sopra Oddio E dobbiamo fare un parkour Perché forse Ma scoreggia Sentito Ragazzi, non è vero Ma Ludovica Comunque, dobbiamo fare questo parkour Per mettere il ponte Vedete qui, ragazzi, che manca il ponticello Ok Ok Però aspettami, Ludovica Aspetta Che cavolo dobbiamo fare adesso? Spettami Spettami Ok Ludovica Ludovica, vieni qua Vedi che qui sotto Dobbiamo tipo completare Vabbè, non ho capito Però comunque, andiamo Devo prendere questo Che cavolo si fa? Ah, Ludovica Ma mica dobbiamo schiacciare il ponticello Siamo già dall'altra parte Vabbè, comunque 1 su 25, ragazzi Guardate qui Ecco Ruba la carta di accesso Apri il cancello E vai all'ingresso Troveremo un razzo lì per uscire E è per andare via Ma non ci ha Ludovica Ludovica Ludo, vieni qua Ludo Guarda questo qui È un piccolo polizotto Che sta dormendo Auri, no Vai in l'alicoso azzurro Auri a 51 Auri, vai in l'alicoso azzurro Ti dà una vita Ludo, qui c'è scritto Che È proprietà privata E E E mi sa che Auri, c'ho la carta Ecco Ok, mettiamo Ok Scappa, scappa, scappa Ludo, Ludo, vieni qua Vieni qua Che cos'è questo qua? Sei tu Oh Dove siamo finite? Oh no Ah, perché qui c'è un altro Ok, vai Prendi Ok, perfetto E torniamo inghietto E come si vale la finestra? Eh, ok, ok No, meno male Benissimo, benissimo Ecco, andiamo E si, ricontinuiamo Ricominciamo il nostro viaggio Sei scarsa, sei scarsa Sei scarsa Ehi Ho fatto subito, addio Mamma C'è una telecamera Aspettami Come sei? Ciao, Lulu Perché? Tu questa è barba lunga Second me Oh, Mr. Bu Ci sta guardando Ci sta guardando No Ci sta No Oh no Ci ha beccato Sembra che abbiano attivato Il sistema di sicurezza Le guardie ci prenderanno da dietro Corri dietro Corri Oh, mamma mia Corri dentro Ludo Ludo, dobbiamo correre dentro No No, Ludovica Ludovica, no, ti aspetto qua Muoviti, muoviti Arrivano le guardie Lulu, vieni, muoviti Sono risuscitata Abbiamo visto che sei risuscitata Ok Ragazzi, io sono molto brava a giocare Ok, rispetto alla scorsa volta Ludo Ludo, vi sono questi alieni Sì, prima Andiamocene via Andiamocene via, Lulu, vieni Aiuto Mamma Ludo Ludo, vai qua Ludo, vai qua Mettieni qua Ok, stai qua Stai qua Non ti muovere Quando vai di là Ecco Ok, vai, 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 vai Vai, 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 vai No, resta lì Com'è successo? Ok, ragazzi Dobbiamo farci Ludovica Dobbiamo farci Ecco appunto Ragazzi, io non lo so fare Ludovica Come devo spiegare? Ok, vai là Buttati Ok Ok, ferma Vai, sali Vieni qua Vieni qua Vieni qua Buttati giù Bravissima Aspettiamo Aspettiamo No, non aspetta Non salire Vai Ma Ma sono Sono suscitata Ma perché? Ma tu hai vinto? Sì Aspettami Devi fare un salto Auri Sì, sì, arrivo Ok Ok Aspetta Ah, ok, grazie Raccogli la chiave per aprire lo Lo Vabbè, niente Ok, andiamo avanti Ho preso Oh no, qua ci manca una chiave Auri, dobbiamo andare Eccolo Ancora questo qua Prendiamo Sì, io l'ho già preso Perfetto E? Auri è La chiave E dov'è la chiave? Andiamo di qua Dov'è la chiave? Penso che è di qua Oh no, un parkour ragazzi Ok Eccola Auri Auri, non cadermi L'ho presa E non ci riesco Ma Ok Ti aspetto con la chiave Non aspetta che anche prendo Ok Ultimo salto Brava Bravissima Adesso scendiamo direttamente di qua Senza fare tutto il parkour Avete visto ragazzi Sono molto atteggi Ok, perfetto Dai Apriamo Lulù Dobbiamo scappare da questi alieni Ok Ehm Andiamo giù Ok Ok Scusate ragazzi Un po' di tolto Ehm Chi è quello? Ehi Ok Lulù Mi sa che dobbiamo andare Lulù scappiamo Non c'è anche la spazzatura Ottimo Wow Ma perché ci abbiamo Perché tu c'hai ancora la chiave in mano? Non lo so Ma io non ho la chiave in mano Comunque Lulù Non so perché Ma questo Aspetta no Devo far vedere Questo E questo rosso Mi ricorda un po' Il Natale Ehm C'è un occhio Dove c'è? Oh mamma mia Non 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 Ma non mi ha fatto saltare Ragazzi oggi Io sono scarsa Non non so Mi sa che abbiamo Un po' Ok Bene Tu non sei mai Tu non l'hai mai perso Eh sì Non l'hai mai perso Ecco Hai parlato tu E sono morta Ecco Non arrenderti Ci sei quasi Vedete ragazzi Pure il gioco lo dice Non bisogna mai arrendersi Perché noi Non ci arrendiamo mai Esatto E anche tutto Il nostro esercito Di unicordi Non serve Cantiamo la nostra canzone Continua a correre Stai facendo progressi Grazie per questo incoraggiamento Però a me non Più tardi magari Grazie Ma perché almeno Non me la do il incoraggiamento Verifica allora Ricorda La pratica Rende perfetti Benissimo Ok No Vabbè Sono persona Più avanti di te Ma aspettami Ecco Ricorda C'è scritto che Mister Alien Non è all'altezza Dei miei Delle mie abilità Non avevo capito Ok andiamo Le ho svoluto Dove sei? No Ma dove sei scusa? Vai Vai Ferma Vai No vai Vai ti dico io stop Oh mamma mia Cosa 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 Ecco diciamolo Ciao Andiamo Ok Bene 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 Aspettami Lulu Non posso Non puoi un quente Lava senso di me Non sto andando avanti Dove chiedere la tua forza Ok Ecco vai Ti aspetto Ti aspetto Ragazzi va avanti senza di me Auri guarda su Ok Ok Auri Auri ti prego con c'è Ehi Ok 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 Ma non c'è nessun alieno Mi sa che qui dobbiamo corre Non 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 No Non cosa fai cosa fai cosa fai ecco continua a praticare avrei successo vai come la capo e vabbè dai fai dove sei io l'ho superata come sei ludica ecco mi aspetta ok ragazzi eccola vai lulu vai lulu vai lulu vai lulu vai piano 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 no vai dietro vai 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 bravissima vai vai piano adesso eh apri ma la c'è un alieno non so mamma mia 3 4 e 5 ora rimedi all'alieno o avanti guarda lino sei molto gentile ma io vado a va è un labirinto no seguiamo la freccia lulu ma non è che forse un trannello no tranquilla le trecce l'albirinto sono usato dove vai eccola eccola ecco la freccia vieni e adesso di qui di cui e di qui ah vedi vedi che le frecce è potente meno male che le frecce ci hanno aiutato ok dove siamo è là e ma che cavolo devo fare devo andare qua io ho capito cosa devo fare devo andare qua ma hai visto chi c'è lì no no mamma mamma ci ho visto aiuto mamma non passa seguimi 0 rosa Matera non lo rinoccavo cosa si chiudica non ci rendiamo mai non siamo più minuti no St optimus maพisch�ja di poi dove vai perchè sta seguendo ma c'è ancora 爸爸 sta dorme ok niente Ma dove dite? Oh, Ludvica, di qua, dove vai? Ludvica ci sta seguendo Ma c'è ancora? Ma Ludvica sta dormendo Ok, niente Andiamo, Ludvica Mamma mia, adesso capivo Ok, Ludvica, ci sei, vieni No, stavo cadendo Oddio, mia Voila, c'è il nostro amico Vediamo cosa dice questa volta Siamo nella stanza dello spezioporto Fai click sul pulsante per aprire la porta Sì, Mauri, lui è il nostro amico, ci sta aiutando Dopo gli dobbiamo dare dei soldi Ah, non ti ho capito Dobbiamo schiacciare questo pulsante qui Per aprire la porta Mi aspetti Sì, però, io come faccio a schiacciare il camion Mi sa che devo andarci Ora mi aspetti Ecco qua Cosa ho fatto? Si è aperta la porta, Ludvica Vai, schiaccia pure tu Adesso si apre la porta Però prima devo prendere questo qui Ma perché? Non si schiaccia Ah, ecco Ok, vai, Ludvica Adesso con cane Mi sono Ma che? Eh, non lo so, lui anche a me ha fatto Ok, adesso andiamo qui Ludvica, ci sei? No Andiamo insieme, ti prego Sì, aspetta Ok, vai, piano, piano Ok Vai Ok, là Ok, Ludvica non tocchiamo Questo qua su me è vomito di alieno No, secondo me è acido Anche secondo me Sono morta Ok, Ludvica Tutto quello qua per raccogliere Ma infatti Ma infatti Quelli che cosa servono? In realtà non so Forse, boh, devi collezionarli Perché è il simbolo di Roblox Esatto, esatto È proprio il simbolo di Roblox Boh, forse bisogna collezionare Siamo a 5 su 20 JPM Ok, bene Lu Ho tutto da capo Ha benato il Il premio che l'abbiamo preso Aspetta, mi mette freddo Ma tu vai con caldo Tanto io ti aspetto Ho preso il checkpoint Vai, ti aspetto Lulu Insieme ragazzi Lulu 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 Ma Stai ne andando? No, perché là c'è la cappola Non è mica Ti stiamo aspettando tutti, lo sai? È ok Non ti fermare Non deve finire Balla con noi Canta con noi Uomiti, oh e oh A tempo, oh e oh La luna, il sole, le stelle Ma poi se cadono quelle Un desiderio distante Buone due ragazze E ragazzi La nostra canzone Le nostre canzoni ragazze Risolvono tutti i problemi Unicornini, no ragazzi? Eh, hai ragione Dica ma questo Ma il ragazzo cosa Dica ma mi sa che dobbiamo Dica ma non è che dobbiamo Scendere per Aurei tu fai il pacco Ecco, là c'è un giapoi No, aspetta Lulu, no, aspetta Mi ti prego Non avendo che ci sei quasi Bellissimo Ma no, dai Lulu che ho paura Aspettami, aspettami, aspettami Mi stai aspettando Sì che ti so Guarda Brava Ok Ok Ecco Ok, perché io senza E te Dovete che io non vado avanti E aspettare Ok 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 Brava Benissimo Ragazzi, guardate che sono Migliorata un sacco Anch'io, eh Vabbè, io l'ho già Ecco, vedi Ecco, vedi che adesso Dobbiamo salire sul Oh Ragazzi, vedo perché Sono spesa in ar Aspetta, oh no Questo razzo è in un viaggio di sole Andata verso la luna Siamo nella luna Eh, guarda che farà la luna Lui comandi Ma io veramente Auri, guarda Questa Oh, mamma mia Ludovica, Ludovica Ecco Vediamo il nostro amico Cosa dice Ma Auri, prende il gioco Aspetta Ci siamo schia Ora come parla Ci siamo schiattati sulla luna Veloci, stai sul muro Accelera la tua strada Attraverso la luna Ok Andiamo, andiamo Ma perché salto altissimo Ma cosa ne so io Aspetta Ah, siamo per fare il parkour Lui ti ricorda che siamo sulla luna E non siamo sulla terra Ok Ok Ok, io prendo Ancora questo coso rosso No, l'ho ancora fatto Vai con calma, Lulu Ok, ragazzi Siamo sulla luna Ma io voglio tornare a casa Ammi ha fatto un salto, no? Ok E poi l'ho fatto due Ecco, ottimo Io voglio tornare sulla terra Cos'è questo? La bibita Sta bevendo Ah, perché questo Perché questo mi dà velocità A me mi piace la velocità A me mi non si dice, Lulu Maui, guarda Senti Cioè Perché Wow No Così mi aiuta E mi sono anche un po' rinfrescata Devo dire Lu ci sei? No, sono morta Ok, fermati Qui c'è così No, tutto da capo Come tutto da capo Intanto vado, Lu Per persona Ok, mi sono tornati Indietro Auri Con Auri Auri, tu aspettami Sì, tranquilla Intanto vado Avanti Vai, ci sei, Lulu? Sì Aspetta Everybody Ti fa ricominciare da capo Il fallimento è solo un passo verso il successo Ragazzi, ricordatelo Tutto da capo Ma stiamo scherzando? Tutto da capo Mi fa fare Sì, ma forse non le vale se non mettono il job point Appunto Auri, vengo Oh, per le gianini Lugo, ti prego, aiutami Ma, mi aspettami là Io, per le gianini Ti sei? Aspetta Ah Ok, andiamo, Lu Beviamo questa bibita e cerchiamo di non cadere, ok? Ok, beviamo, beviamo Ma, ragazzi, sono un po' Ok, bene Ci sei, Lulu? Aspetta che bevo Se andiamo avanti per la nostra strada senza fermarci Uh Vediamoci un altro Bello Senza fermarci Vediamoci un altro Ah Ok Stavo per morire Ah Ok Stavo per morire Lo vi raccomando Bisogna andare Però, giuro, stavo per morire Auri La velocità Non va Vai, vai Oh Ah, no Ok Morta No, no, no No, no, no Fammi prendere quello Fammi prendere quello Piano piano No Fammi prendere Ma perché non mi fa Ragazzi, io ho molto ansia Ci sei? Ok, io ho fatto Che sei, Lulu Aspetta Perché sono qua? Torni indietro Torni indietro Oddio Mamma E vai Checkpoint Tu non ci sei, amore? Vai, amore Vai, vai, vai Ok, ci sei Sono fossi morta Sì Bravissima Ok, adesso Oh, oh Prendo qui poi, Ludvica, c'è il checkpoint Qui siamo un po' salve Ok, ok, Ludvica Con calma Io la vedo un castello Ludvica, io la vedo un castello Non so te Eh, vabbè È un castello Tanto principi Vai Aspetta E vai Let's go Let's go Let's go Ricordo che qui non c'è il checkpoint Eh Vediamo questo Siamo a 9 su 25 Yeah Ok Dove lo vedi che siamo a 9? Qui su Ah Sotto Sì Ma vi hai detto su Sotto Vabbè, ragazzi Ok Siamo Andiamo 8 a 25 Tu 8, io 9 Perché l'ho già preso Ok, Ludvica, ma adesso Quale avrei preso? È quello là che vedi Aspetta, Lulu Ma dove puoi andare adesso? Ma io ci sto seguendo Ma dove sei? Mamma mia Adesso morivo Sì, avrei Aspettami là Ok, vai Prendo questo Mamma mia Adesso cadevo, ragazzi Scusate per questo silenzio Ma siamo molto concentrate Ok, Lulu Adesso andiamo di qua Perché questa è la parte Perché non dobbiamo perdere Perché se perdiamo Ricominciamo tutta la capa No, ma perché Questa è la parte più difficile Esatto No, questa è la parte più difficile Ludovica Aiuto Ok No, ti ricordo che qua Poi non c'è più il checkpoint Ok Dobbiamo concentrarci Adesso dobbiamo fare così Auri Chi va sano Chi va sano Va Perché non mi ricordo Chi va piano Va sano e va lontano Questo volevi dire Chi va veloce Perde il treno E va alla foce Non mi ricordo Sì, era così Sì, Ludovica era così Ah, no, no Mamma mia, Ludovica Non c'è Guarda, dobbiamo stare molto Io guardo sempre Io, ragazzi Io faccio così Perché Ecco, sono arrivata Al castello Vai, Auri Ok, ragazzi Siamo arrivata Al castello Nel castello Ci sono i laser Andiamo, Lulu Vediamo cosa succede Ragazzi Lulù, io voglio Vuoi andarmene a casa Basta Ehi Perché siamo così, Ludovica Ma, ma Ma perché ci vediamo così? Ma dobbiamo Che cavolo dobbiamo fare? Ma io come faccio? Ma come fai ad andare? Ludovica Io Io mi sa che non posso Perché io sono su computer, ragazzi Oh, no Ok, ragazzi Ci sono riuscita Auri, io sono arrivata Fino al livello Ti aspetto Ok Poi ti dico, Auri Auri, poi ti dico Che ci sono delle facce Quando è bianco Puoi passare Sono sempre stata, continuo Ok Quando è bianco Puoi passare Ecco, Auri Sono tipo risuscitata Vai, Auri Ma no, ma aspetta No, Ludovica No, devo prendere quello Vai Aspetta, no Devo prendere Ma so come che si fa Io sono a unici Tu a dieci Devo prendere questo Ok, bene Bene Adesso posso tornare a casa felice Cioè, a casa Posso continuare felice Ok Perfetto No, aspetta Vai, vai Corri, corri che c'è Non lo aspetta Non lo aspetta Non lo aspetta No, aspetta Aspetta, forse non l'ho preso Io quello Vabbè, dai Ciao, Lulu Dovado qua Ma sì, io l'ho preso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ok, ragazzi Ci siamo, ci siamo, ci siamo Ci siamo Let's go Bene Ok No No, questo l'audio Oh, Dio Ok, Ludovica Ludovica, vieni qua Vieni in questa porta Ludovica Ok 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 Ci sei? Io muoio Ci sei? Addio Dai Ma chi sta tipo trasportando? Vai, Ludovica Io ti aspetto Io do questo gioco Udo, devi venire in questa porta Ci sei? Aspetta Mamma mia, ragazzi Mamma mia Mumy prende Ci sei? Corri Vai, vai, vai Corri, 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 brava Adesso Bisogna andare nell'altra porta No, aspetta Non lo so Aspetta, aspetta, aspetta Ti dico io quando andare Ok ormai sono aspetta di questo giochino Ok vai No Corre più veloce che puoi Bene Perfetto Ma tu sei a 13 Io sono a 13 e ho a 14 Dopo andiamo Ludo fatti sotto Vai 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 No 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 Ci frega ci frega Ci frega ci frega ci frega ci frega Ok Io non ci vado aspetta Ok vai vai tu vai con calma Io ti aspetto qui Non so più dove andare Ok aspetta Vai Corri 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 Mamma mia Stavo cremando Ragazzi aspetta adesso dobbiamo andare Aspetta no Aspetta no adesso O no adesso No adesso Aspetta te lo dico io quando Adesso Auri Ma Adesso Vai qui Vai qui giù No vedi qua Vedi qua Sì Bravissima Ludo vatti giù Vatti giù Vatti giù Che ce lo meritiamo Dannazione un vicolo cieco Siamo rinchiusi in una prigione spaziale Due giorni dopo Chi è questo? Ehi Ti sto liberando Grazie Cosa è successo? Il proprietario di area 51 impazzito vuole mangiare i suoi lavoratori esce di qui Ci vuole mangiare No aspetta Usciamo di qui Però via anche tu amico Ok Sì perché Ludo salta Ludo Ludo ci vuole mangiare Ci vuole mangiare Ci vuole mangiare Facciamo che è una vita vera ok? Ok Facciamo che è una vita vera ok? Ok 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 Mi raccomando salta Salta Ok Ludo dai Ludo provo devi Vai Io vado nel checkpoint e ti aspetto qui Ok Ok Tanto non mi mangio Ragazzi non è vero non ti mangerà Lulù perché sei con me vai Ludo mi raccomando salta quando arriva la linea rossa Ok Salta Bravissima Ok Ok non mi mangio Andiamo qui Tenta qui la linea rossa Ok Ludo su e andiamo la croci Ma ho saltato eh Va bene dai Ti aspetto qui And we don't have to lose your mind Non puoi essere fermato prima ancora una volta Ma perché? Ando con calma bisogna fare piccoli saltanti alla volta E poi vedi che tutti ci riusciamo Ok Prendo questo e me ne vado Perché io potevi andare anche nel Perché c'è anche l'altra linea rossa sopra Ma che cos'è un tavolo? Sì voglio sederci Ah sediamoci un pochettino No non mi Auri non mi sembra il momento di sederci Oddio Cinque minuti dopo Cinque cellulare nella tuta con il baby Non richiamerò Ragazzi Scriveteci giù nei commenti Qual è la vostra canzone preferita di Sanremo Beh ce ne sono tante Ad esempio quella di Annalisa che fa Sinceramente Quando 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 E poi fa Ma a me mi piace la noia Quella d'Angelina Malgo Esatto Lei ama tantissimo Angelina Malgo Che fa La noia La noia E poi c'è anche quella di Jolier Ibemetute Che come fa? Lodriga come fa? Come fa? Ibemetute Ibemetute E poi c'è quella di Mammud Queste qua ragazzi sono quelle mie preferite E quella di Mammud fa Cinque cellulare nella tuta con il baby E ancora dei The Colors Un ragazzo Incontra una ragazza Ah ma io sto prendendo Sì ragazzi Comunque ragazzi Scriveteci giù nei commenti Qual è la vostra canzone preferita di Sanremo La nostra a tutte Ok Tu ci sei? Però a me è più Angelina Malgo Sì io sono Adesso dobbiamo andare avanti Ok perfetto Cambiamoci Lodriga Forza Salma Lodriga Salma Tu puoi farci Adesso Non mi frego Ci sei Lulù? Vai Perché io salto però? Appresso l'impegno però ragazzi Appresso l'impegno Vai Ma è l'ultimo 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 Oh bravissima Bisogna schiacciare questo pulsante Vai 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 Ok Sì 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 Premi pulsante Aderale attiva il teletrasporto Però prima bisogna prenderci Il premio Il bottone Dai Il premio Ok Ludovica vieni con me Andiamo Aspetta allora Ludovica Da quello che ho capito Dobbiamo prenderci il bottone Aspetta no Ma come facciamo però? Che qua E ma come fai ad andare? Perché tu lo hai giunto Ah Pensavo Bottone Ok Cosa ha fatto? Non lo so Ok Cos'è successo? Mi sa che Lodriga ma dovevamo tipo Attivare il teletrasporto Vediamo vai qui Ah tutti e due Bisogna attivare Oh mamma no Non mi piace Che vuoi wish? Che vuoi wish? Fatto Perfetto L'avete L'ho fatto Si aspettami però Ok Ma che cavolo Mi sa Che Ragazzi Ma che facciamo Scusami Ok Auri No io non ci vado Grazie ma io non ci vado Ma io non voglio Estrano Ok Bene Auri Che posto è questo? Ah Mamma mia E scappiamo Ma questa qua L'ha facciata La Cosa sta succedendo? Cosa Sulla No ragazzi Ma Che schifo Che schifo Ma non credo che la lì Non abbia tutti quanti Renti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Siamo all'interno Di Mr. Ali Che cosa? Che schifo No che schifo No ragazzi Ma io non voglio Ma queste sono le sue lingue Ma che cavolo Ma che lingue Lulù Madonna che schifo Ma voglio vedere proprio la sua lingua Che schifo Beh non è la cosa mia La sua lingua Non è la cosa mia Non è la cosa mia Non è la cosa mia Che schifo Che schifo C'è come l'hanno inventata Che schifo Cinque cellule Oh baby Non le chiamerò Ma non le chiamerò Sì proprio così Non le chiamerò No io non so il secondo pezzo Su Ok ma l'unica Ci sei? No Va L'abbia Scusate ma allora Guarda che ti ho detto io Vai Bene Bene Ma che cosa sei mangiato? Bene Auri sei mangiato tutta sta roba Che Che schifo ragazzi Io non Io ho schifo Ma vuoi che ce n'è che stai dentro la bocca di un alieno? Ragazzi se a me succede la vita reale Io svengo Io svengo eh Se succede sul serio io svengo Vado all'ospedale Io svengo Che schifo ragazzi Dove sei? Che schifo Che schifo Che schifo Ok andiamo Lulù Brava La domica Ma cos'è questa? Ragazzi Sì dica ma fatti manche l'aperitivo Non lo so Cioè tranquilli Ci sono le patatine Ma non lo posso fare Dai Lulù Ok C'è quella c'era No la noia Vai 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 La noia Brava Ti amo Ok Sono morta Ok ti vedo No però vieni un po' più indietro Ok Eccomi Dove sei tu? Ok Io ho scoperto Se qualcuno muore sempre Vuol dire perché deve essere qualcosa di più Ok Bene 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 Auri C'è uno scheletro Dov'è? Auri vieni qua Guarda che strano Aiuto Vabbè Non lo dovi che forse hai il vomito Guarda Auri Scheletri No Questo Questo qua sono le ossa Dai Vado a prenderlo No me non piace Lulù Anche a me Non lo devo fare Le forze Mi è sponato Adesso Mi vedo se non fa Perché non fa Ragazzi è molto difficile Giornare col compito Sì ma Scusami un attimo Scusami un attimo Scusami un attimo Ma quando finisce Auri facciamo La canzone di Halloween Miss Halloween Miss Halloween Miss 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 Halloween Miss Halloween Vai 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 Miss Halloween Miss 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 Halloween Miss 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 Halloween Sì Halloween 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 Miss Halloween Non lo so Sì proprio Halloween Miss Halloween Ragazzi Miss Halloween No Io non so Dove sto andando Io ho preso Tutte Ci sei? Ok Io ho preso Tutte Due Ma Eh Audi No Audi Me lo fai Aspetta Lulu No Non arrenderti Fallo tu Tu sei forte Io ho preso Ok Aspettami Mamma mia Aspettami Vai vai Tanto lo dica Io sono Ok Ok Siamo a 20 su 25 Cantami Cantami la canzone Di Halloween Aurore Ludovica Sono Quei Ragazzi Questa volevo Halloween Ho detto Halloween Scheletrin 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 Sono morta Nello Scheletrin Sono morta Nella panza Della Niente Perché hai cambiato canzone Che ce la stavo facendo Halloween Ne ho detto Halloween Auri Ho un'idea Dove sono Ecco Auri Sei nella pancia Dello scheletrino Perché forse ci riesco qua Devo morire E Auri Ecco Sei riuscita Io no Perché Perché Quando arrivi là Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Quindi C'è Tipo una scala Nella pancia Vai Ti dico io Vai Ok Vado Vai Vado Vai Vado Va Salta No Vai là Nella pancia Ma come Vai nella pancia No Vado Vai nella pancia No Vai l'amica Ok Andiamo Andiamo Oh no C'è questo buco nero Aiuto Basta Ti prego Ti prego fuori Ti prego fuori No Non siamo fuori Abbiamo vinto Ma Mica siamo a 25 Forse A come ce ne siamo Dimenticati Abbiamo vinto Si stiamo arrivando Non stascondi io Sali sui pad Ma dove dove andai Auri Un prezzo E c'è poi No Auri Ok Cosa stai super in alto Se tu vedi in quello azzurro Si però aspetta Non ci siamo Wow Così 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 Wow Wow Anche in quello giallo è bellissimo Però ho capito Ma dobbiamo un attimo Andare dentro Comunque siamo uscite In un numero di 5 Dagli alieni Siamo riuscite a scappare Dagli alieni ragazzi What Mi sono trasportata Da un altro gioco Ho trovato il portale Perché ho trovato il portale Mi ha trasportato In un altro gioco Dov'è che sei tu Ah Eh Lulù Vabbè ragazzi Tipo la Teletrasportata In un altro gioco Ah ragazzi Ve volevo dire Cosa vuoi dire Sì ragazzi Lulù Si è comprata Degli occhiali Guardate come sto Auri Come sto È molto bella Solo che sono un po' sporchi Questi occhiali Vero Lulù Sì E nulla ragazzi Speriamo che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo video Vero Lulù Vabbè ragazzi Questo è pazza Una maialina Iscrivetevi Attivate la campanellina E lascia Jingle E lasciate tantissimi pollicioni In su Fatelo E ciao 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 Noi siamo gli unicorni Grande esercito del cuore Se stiamo insieme Tutto poi diventerà speciale Noi siamo gli unicorni Beh vieni a cantare con noi Oh 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 Non ci arrendiamo mai Noi siamo gli unicorni Noi siamo gli unicorni